L'Aquila stecca ancora, il discorso salvezza si complica. La squadra di Carlo Perrone esce sconfitta 3-2 anche nello scontro diretto di Prato, subendo la gancia in classifica proprio dei Lanieri. La vittoria oramai manca da sette partite ed è la quarta trasferta consecutiva nella quale l'Aquila torna a casa senza punti. Invertire la rotta è fondamentale per centrare la salvezza diretta e per farlo è necessario limitare il numero spropositato di errori commessi tanto in difesa quanto in attacco. Basti vedere come dopo sette minuti Pesoli, non al massimo della condizione, sbagli il rinvio agevolando il vantaggio del Prato con la botta ravvicinata di Benucci su assist di Corvesi. Una conclusione che non dà scampo a Scotti. Con Maccarrone out per squalifica e Milicevic infortunato, Perrone fa debuttare Chiri Letti e sceglie De Sousa al posto di Perna. L'Aquila troverebbe il pari con Benzaia ma Viotti di Tivoli annulla per un fuorigioco che le immagini dicono non esserci. Poi inizia la fiera dell'errore nei pressi della porta dell'estremo di casa Rossi graziato da San Domenico che scheggia il palo. Poi il furetto partenopeo prova a saltare Rossi che con un guizzo gli soffia il pallone. Quindi De Sousa, Tubertù col portiere toscano anziché servire per il comodo 1-1 San Domenico conclude in prima persona e sbaglia. Nel finale di tempo ancora San Domenico fa tutto bene fino al momento del tiro quando viene murato dall'estremo Lagnero. Troppi sbagli che l'Aquila paga ad inizio di ripresa quando Perrone effettua un doppio cambio. Fuori Pesoli e De Francesco dentro un altro debuttante come Bruno e Triarico. Ma il Prato raddoppia al sesto sugli sviluppi di un corner. Capitane Ghinassi benché trattenuto in tuffo riesce a incornare. Scotti si fa sorprendere ed è 2-0 Prato. Neanche il tempo di smaltire la seconda botta che l'Aquila incassa anche il Triss al decimo. Ogunseie inserito dopo l'intervallo al posto di Regolanti sfrutta le praterie lasciate dall'Aquila. Salta Scotti e fa 3-0. La partita sembra finita ma toccato il fondo l'Aquila si ridesta e al diciannovesimo va a segno con la Pantera De Sousa che di testa corregge il traversone di Chirieletti e mette la palla all'incrocio 3-1. Per Rone gioca anche la carta di Mercurio al posto di Bulevardi ed è ancora Chirieletti il protagonista di un assist stavolta involontario ma comunque efficace per San Domenico che fa centro a 10 minuti dalla fine. All'86esimo Bruno stende così Gaiola in area di rigore. Penalti che Gabbianelli calcia alle stelle. Nei minuti finali l'Aquila ci prova ma vanamente. La sconfitta si materializza ed ora squadra in ritiro nelle ultime quattro gare con tre sconti diretti. Non sono più ammessi passi falsi. Grazie.